Il presidente facente funzione della Regione Calabria, Nino Spirli, ha manifestato la volontà di emanare un'ordinanza che dovrebbe entrare in vigore da lunedì e che prevede misure restrittive per tutti i cittadini per due settimane a causa dell'aumento dei contagi da Covid-19 negli ultimi giorni e per evitare l'avanzata del virus. Tra le misure si prevede la didattica distanza per le scuole medie e superiori e il coprifuoco nelle ore notturne. Il presidente della Regione facente funzione Spirli ha anticipato i contenuti dell'ordinanza in un audio messaggio inviato a sindaci e consiglieri regionali. Spirli ha fatto un giro di consultazioni per raccogliere ulteriori parelli dopo la conferenza Stato-Regioni prima di firmare l'ordinanza, che dovrebbe prevedere il fermo notturno dalle 24 fino alle 5 del mattino per tutta la popolazione calabrese. Per le scuole sarebbe prevista la didattica distanza negli istituti superiori e alle medie. Niente cambierà per gli elementari e per l'infanzia. Limitazioni anche per ospedali e per le RSA. I parenti dei degenti non potranno più avere accesso per le visite anche se qualcuno si trova negli ambulatori in attesa di ricovero. Previste anche limitazioni per le visite specialistiche non urgenti, mentre dovrebbero rimanere aperti i poliambulatori e gli ambulatori per le visite urgenti, oncologiche, cardiologiche, diabetologiche e per le persone diversamente abili.